ok benvenuti come vedete siamo nel posto in cui do luigi guanella è stato vesco è stato parroco per ben tantissimi anni la popolazione le chiede che diventi santo questa è la chiesa di luigi guanella ecco ecco l'acqua e questo è il lago il fiume dove guanella l'estate faceva il bagno l'inverno viaggiato e quello completamente nero non è cielo ma sono montagne sono montagne siamo sopra di noi se cade ti viene tutta baffo ti viene tutta baffo ti viene tutta baffo la montagna siamo un po' stanco io sono un po' stanco perché vorrei dormire tanto nel mio lettino e adesso infatti adesso infatti andremo a dormire belli tranquilli così ci svegliamo e andiamo a sciare però ieri ce l'abbiamo fatto tardi poi siamo finiti come ho detto prima in un postaccio però è stato bello perché abbiamo pianto abbiamo fatto un po' di tutto insomma ciao buttati 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 buttati